Domanda del giorno, come partecipare a degli eventi e divertirti quando non stai a bia evento, mentre tutti intorno a te lo stanno facendo? Ecco ora tre dritte veloci che vi aiuteranno. Perché è veramente difficile a volte, puoi avere la motivazione giusta, tutto può essere in ordine, ma se tu non sai come divertirti senza bere, è facile ricaderci perché penserai che merda, giusto? Sono qui in piedi in un angolo e non sto parlando con nessuno, voglio divertirmi. Bene, ecco i miei tre consigli. Il primo è, prendi gli effetti migliori del bere e imitali. Cosa intendo con questo? Che l'alcol produce alcuni effetti nelle persone, non berremo altrimenti, giusto? Ci aiuta ad abbassare le nostre inibizioni, ci rende più facile presentarci alle persone. Facciamo giochi stupidi, buffi e la prima cosa che vedo quando le persone smettono di bere è che pensano di doversi fermare, devono comportarsi a modo non possono più giocare, sono tutte stronzate. Perciò se c'è un gioco divertente di bevute, giocaci con l'acqua. Se la gente ti rompe per questo, torna il video su cosa dire quando non hai intenzione di bere, questo non è mai stato un problema per me. Ok, sei lì in piedi appoggiato al muro e la gente inizia a socializzare. Quelli che si ubriacono iniziano ad essere più loquaci. Sì, tu la persona è più loquace per prima, ok? Se la metti come una sfida e dici, sai cosa, ora voglio vedere se riesco a divertirmi di più, essere più estroverso, più amichevole, più di chiunque qui, anche senza aver bevuto, questo scopo ti accompagnerai in qualsiasi cosa tu faccia e ti accorgerai che ti divertrai molto di più, perché uno, sei in controllo, ma due, stai comunque godendo di un sacco di benefici. Due, cambia il tuo stato d'animo ballando. Ora, la cosa divertente del ballo è che se tu chiedi alla gente di ballare, molti risponderanno che vogliono aspettare finché non sono davvero, davvero ubriachi per ballare, ok? Ah, ballo solo quando sono ubriaco. La cosa divertente qui è che ballare e bere, a quanto pare, potrebbero avere requisiti diversi. Ballare richiede un sacco di coraggio, bere no. Hanno lo stesso effetto in parecchi modi. Quando sei sulla pista da ballo, e anche solo per due minuti, spassatela, balla come un pazzo, vedrai come si abbassano le tue inibizioni. Ti senti molto più a tuo agio, ti senti più espressivo col tuo corpo, entrerai più facilmente in contatto con le persone, quindi, quello che raccomando vivamente, invece di stare lì in piedi in palato, completamente inespressivo così, è di andare in mezzo alla pista. Se non c'è una pista, muoviti in giro, trova un posto dove ti senti tranquillo, dove tutti ti vedono o dove potresti non essere visto proprio da nessuno, ma per due minuti, prendi i tuoi amici, fate un cerchio, crea una sfida di ballo ridicola, dove salti, balli, e tutti saltano in mezzo facendo mosse assurde, e stai lì per due minuti ballando di brutto. Non solo ad ondolare avanti e indietro, ma alzando i gomiti, muovendo le mani. Quello che scoprirai, ed è mi caddi, una studiosa di Harvard che ha fatto uno studio su questo, è che quando muovi il tuo corpo, quando ti metti in una di quelle che chiamano power pose, una postura sicura, quando muovi il tuo corpo spassando, te la sorridendo, ridendo, facendo l'imbo e facendo il pirla, il tuo cervello sta mandando gli stessi segnali che riceveresti se stessi bevendo, ovvero meno inibizioni, meno interesse per quello che pensano gli altri di te, e dopo solo due minuti inizierai a sentirti diversamente da quando sei andato su quella pista. È fantastico, questo dura per molto, molto tempo, durante tutto il giorno, l'evento, la notata e ovunque tu sia. Quindi assicurati di usare il tuo corpo, diventa espressivo perché, quando stai contro quel muro, ti stai facendo le male da solo. Il terzo consiglio, che potrebbe sembrare un po' controintuitivo, ma non lo è, è di smettere di andare a eventi che fanno cagare, ok? Non andare ad eventi dove l'unico obiettivo è quello di essere ubriachi, e dove non c'è modo di divertirsi se non con l'alcol, e ci sono pub come questi, ci sono persino eventi sportivi come questo, dove nessuno interessa il gioco, ma l'unico scopo è bere. Se ti invitano a queste serate, ci puoi ancora andare, ma quello che ti raccomando è una controfferta. Prova a dire, ehi socio, oggi non ce la faccio, ma stavo pensando al paintball per settimana prossima, ti va di venire? Oppure, ehi socio, non posso proprio, ma sto organizzando una cena di gruppo a casa mia giovedì. Ci sei? E, quando inizi a essere così creativo, beh, indovina un po', stai creando eventi divertenti che le persone apprezzeranno molto di più, e questo perché non devi essere ubriaco per farlo. Ma, secondariamente, passi dall'essere uno delle tante persone che viene invitata a qualche parte, all'essere il fulcro delle interazioni. Diventi quello che organizza eventi fighi perché sei l'unico a cui interessa davvero che la gente si diverta di brutto, dove non è necessario essere ubriaco per divertirsi, e ritrovarsi a non sapere cosa sta succedendo. Quindi, davvero, basta andare ad eventi che non sono per nulla divertenti, se non ti piace andare per locali, a me piacciono, non ci andare, invita i tuoi amici, invita le persone a qualcos'altro che sia divertente, giusto qualche idea paintball, laser tag bowling, qualsiasi cosa abbia un evento, che abbia qualcosa da fare lì, ok? Dove c'è qualcosa di interessante, insomma, quello sarà molto più divertente. Spero che questo ti aiuti a divertirti di più la prossima volta che uscirai. L'argomento alcol dovrebbe essere concluso, ma se hai delle domande, non farti problemi. È da molto che faccio queste cose. Sono felice di aiutarti. Scriviti nei commenti, iscriviti al canale per non perderti nulla, analisi e tutto il resto, e ci vediamo nel prossimo video.